Eccoci abbiamo attaccato l'E-Cave Ecco l'abbiamo attaccato tutti quanti L'ultima stretta Mr. Tech l'ha giusto a tutto Magari lo scassa a tutto Ehm Niente allora mettiamoci un po' Mettiamoci il tappo Il tappo Più che stia arrivando qualcuno Un capo in busca Attraction Ok Tieni qua che ci metto il nastro Il nastro Perché no? No Non arriva nessuno No perché stiamo facendo i video e non abbiamo voglia di intrusione No vabbè non metterci il nastro che tiene Ce lo dovevo mettere qua il nastro non per farlo tenere per l'acqua Anche se prima o poi si staccherà subito però No pensavo da qua No quello è abbastanza chiuso C'è anche i buchini Si il nastro è la cazzo sto mettendo Vabbè tanto qua Non viene tanto No Ok Qua è messo abbastanza bene Tossicida Allora Ok Niente Che pecchiamo qua L'indegna Ragazzi qua Adesso li metto il cappuccio nel telefono Si il cappuccio nel telefono Il cappuccino? Si si Allora Più o meno era Dov'è il ripetitore? Ma il ripetitore punta con la casa bianca a destra Quella un po' coperta Quella a sinistra? No Eh si Vabbè in mezzo alle due Ripetitore là C'è quell'albero lì Poi c'è una casetta tutta che si vede Poi c'è quella mezza nascosta Eh Vabbè Quella in mezzo a quella nascosta è quella che si vede Ma si va bene Tanto Tanto mai Come siamo a tempi d'oggi Pia da partire I vicini ce l'hanno girata al contrario Per prendere lo stesso No Sto sicuro che hai si spezzare il bullone Non so perché Non me lo sento Eh tanto l'antenna la vado a ricampare io di sotto No Non è questione che cade l'antenna C'è questione che poi Devi andare a ritrovare un altro bullone di questo Ah Tanto c'è la fabbrica di sotto Voilà Sta a vendere il palo Cambiamo mano per la camera Cosa è stato così Sti rumori qua sono in qui Ah no Le tende automatizzate Ok Niente qua Sono un po' Tutta la cazza Gli UFO Però va bene Ok adesso ci facevamo il montaggio che passa davanti l'UFO Ma adesso perdono i montaggi Ti prendo un po' la testa Chissà che ce l'hai smontata Allora Caccia la vite Caccia la vite No No Fermo Aspetta che ho sbagliato No Ti ce la devi mettere la vite Aspetta che prendo il Metti vite Metti vite Aspetta che lo prendo Non inquadrare perché lo devo prendere nella mia cazza Sì sì Ok Ragazzi ho preso un Metti vite Metti vite Ok Perfetto Idee simultanea Ma non male che me l'hai ricordato No Se non l'ha togliere Era un casino Poi era un casino Se mi cadeva giù di sotto Qua è anche mezzo scassato Speriamo Vabbè Ragazzi tutto materiale di recupero qua Si cerca di fare quel che si può Bah qua non proprio tutto materiale di recupero Eh vabbè però Più di là Nella farm Ok Mettiamoci il tappo Che è il nostro peccato Porca troia Inizia a far freddo Porca troia La finisci di parolacce? Gennaro Ti bannano da youtube poi Mamma C'è un bambino di là che si ammazzano Piccoli killer crescono Ok Mi sta congelando la mano A me mi sta congelando la punta del naso Ah quella è già congelata da mezz'ora Mi fa ancora male il ginocchio Notare Ok Ok adesso andiamo non si vede Taglia molto tanto Taglia molto tanto Questo è italiano ragazzi Sono i nuovi vocaboli Che verranno messi nel dizionario Taglia molto tanto Dizionario 3011 3014 Ovvio Quando che hai detto volevi dire Siamo nel 14200 Ma io chiamerei una prova di matematica Però per calcolarlo Qua ci mettiamo nella strada Giusto for security Ah security A me non me lo dici Vedi che ci intendiamo subito Ci sono un po' di pietre su questo tetto Allora Ragazzi Soffiata molto importante Sì 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 Vabbè dobbiamo far vedere come si chiuda la tele Ok Allora l'antenna l'abbiamo montata Questo nastro tecnologico Che praticamente è un nastro che non finisce mai Ultima generazione Questa qua credo che sia spagnola No no me l'hanno portato in marziano L'altro giorno Ok Niente abbiamo montato l'antenna Adesso andiamo a verificare Se si vede o no Se lei funziona E niente Mettiamo in pausa il video E il tempo che facciamo una ricerca Al canale Vediamo se si vede Se non si vede Con nostra grande felicità Potremmo dire che il lavoro È stato portato a terra Se non si vede Se si vede C'è qualcosa che non vuole Ok Ragazzi ci vediamo tra poco Metti pausa non stop Ciao Ok ragazzi Come potete vedere Ho messo in pausa Cosa mi si pausa Ok ragazzi No un attimo Vai Ok ragazzi Come potete vedere Praticamente Abbiamo un segnale E una qualità quasi massima Quindi abbiamo riparato il problema E il nostro lavoro è andato male Perché il problema è l'inverso Quindi abbiamo fatto un casino Siamo nella Tottenso dimora Ok siamo nella dimora Di sto video Di sto Come si chiami? Camera Buongiorno Ecco Niente Tutto è caricata la batteria del telefono E non ce l'abbiamo fatta in tempo È rimasto un pezzo di video a metà È rimasto un pezzo di video a metà Come stavamo dicendo Praticamente il Sto guardando il computer Il progetto è stato Diciamo Portato a termine Però con Con un risultato negativo Perché comunque La televisione si vede Il nostro progetto era non farla vedere E Niente Allora Vi saluto a tutti Vi salutiamo a tutti Vi salutiamo a tutti quanti Mi raccomando Se il video vi piace Mettete vi piace Se non vi piace Non mettete non mi piace Dai stai fai Non mettete non mi piace E Io metto non mi piace Cioè cosa ho detto Sì Ok Stai Stavo facendo un reload qua E niente Ti reboto Dai Ciao a tutti ragazzi E mi raccomando Continuateci a seguire Ciao Stop Top Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti